Non cascate a questo nuovo scam su Adopt Me! Scambio Strawberry Butt Dragon! Posso offrire? Certo! Aspetta! Conosco un trucco per duplicare i pet! Davvero? Sì! Devi mettere il tuo pet più forte in trade! Accettare la prima volta e poi cliccare su tutti i tuoi outfit e indossarli tutti! Che bello facciamolo! Cosa no? Nabbo ti ho scammato! Grazie per il Butt Mega!